Un ringraziamento particolare all'amministrazione comunale, hanno finito la piscina in tempo secondo me record, per cui la inauguriamo oggi ma non in modo ufficiale, con l'apertura di questa manifestazione che porta a Riccione in questa occasione soltanto circa 4.200 ragazzi per 15.000 presenze, per cui grosso evento soprattutto in fatto di presenze perché come ti dicevo in 4 giorni soggiornano a Riccione 4.200 ragazzi. Ecco, è un impianto questo che forse nemmeno la città ancora ne conosce, ne ha capito l'importanza.